Ciao a tutti di Alienware Web, benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi in questo video, come avete detto dal titolo, vi farò vedere un po' gli acquisti. Sì, ancora, lo so. Questa volta però ho deciso di includere, dato che i miei acquisti non sono molti, di includere anche gli acquisti che ha fatto mia sorella, perché penso che magari vi possano piacere o che comunque vi possano essere utili, in specie nel periodo dei saldi. Quindi iniziamo subito. Partiamo un attimo da Primark. Da Primark ho preso solo tre cose, tre o quattro cose. Il mio primo acquisto sono stati questi occhiali qua, che sono facsimili a quelli che ho neri, più o meno il modello è quello, perché mi piacciono belli da gatta. Le ho pagate 3 euro. Di qua sono color crema, mentre qua davanti sono tutti, non lo so, amacchie. Non sono neanche tartarugati, però comunque quello è il concetto, ecco. E sono questi qua. Poi, sembra per il concetto fa caldo, non voglio pesi, non voglio niente, non voglio sentire le borse. Mi sono presa un marsupietto. Questo l'ho pagato 6 euro, mi pare. E c'era anche color militare... no, scherzavo. C'era anche rosa, color militare... Anche bianco. Comunque, è questo tessuto lucido, molto sottile. La pecca è che non posso metterle in vita, perché ho scoperto che è largo. Troverò un modo per portare la tracolla senza sembrare una mezza camionista. E questo qua. Ripeto, mi sto dando le borse piccole. Anzi, fatemi sapere qua sotto con l'hashtag team borse piccole o team borse grandi, a seconda dei vostri gusti, di quale team fate parte. E niente, fatemi sapere qua sotto. Ecco, vi aspetto, mi raccomando. Voglio capire chi vince. Mi sono presa questo set di Federa del Cuscino. Più... Non so se è un piumino o un lenzuolo. Comunque, questo set rosa, perché voglio il letto tutto rosa, che era scontato. Non so quanto venisse a prezzo originale. Guardiamo qua sotto un attimo. Forse veniva a 15, esatto. Veniva, non so se lo vedete, veniva a 15 e io l'ho pagato 8. E finalmente l'è lenzuola rosa. In vista dell'autunno, perché io o penso troppo all'estate o penso già alle mie stagioni preferite, per l'autunno, diciamo, mi sono presa questi stivaletti qua, basic, neri, un po' a punta, scamosciati, infatti ho paura per le piogge, ma vabbè, e sono dei bambini, perché ogni tanto Primark nei bambini mette delle cose fighe, quindi se siete petit, andate lì. Sembra che faccia anche rima. Questi stivaletti qua, adesso ve ne faccio vedere solo uno, l'ho pagato 10 euro, e io ho preso il 35. Qua ci siamo proprio allargate, proprio abbiamo fatto un po' le ribelli, perché sapete che io porto il 33 e il 34, ma ho preso il 35 perché sono molto, molto strette. Quindi se avete il numero piccolo, correte da Primark. C'era anche il color caramello, però non è un colore che fa per me, diciamo, e non almeno per le scarpe, mi sto pian piano evolvendo quel colore, non tutti insieme. E niente, sono bellissime. E le adoro, non vedo l'ora che sia autunno, vorrei che facesse freddo tutto il giorno, ma vabbè, aspetteranno. Un'altra cosa che ho preso da Primark, che volevo da tantissimo, che cercavo da tantissimo, infatti stavo guardando la Makeup Revolution per questo, cercavo un blush, leggermente brillantinato, leggermente glowy, leggermente illuminante, non lo so. Comunque cercavo un blush luminoso e non sapevo se prenderlo in crema o in polvere. Ovviamente in crema non l'ho trovato, ma ho trovato lui da Primark e devo dire che sono molto, molto contenta. Oggi lo sto indossando, anche se non so se quanto si vedrà, e mi dà un colorito, ma anche una leggera luminosità che mi fa sembrare molto sana, molto riposata e lo adoro, lo sto adorando. Si chiama Inner Glow e l'ho pagato 3,50 euro e dentro è caldo così. Speriamo se... Ok. Non sono stata impedita. E dentro è così. Come vedete già, da così non è perché c'è la luce, ma in generale è luminoso lui. Guardate. È meraviglioso. E poi tra l'altro ha delle stregliature, sia rosa e sia marroncine, quindi tirano fuori un colore tra rosa e il pescato che mi fa morire. Cioè è meraviglioso. Poi ci sono anche altre colorazioni, forse proprio quella più pescata. e sono bellissimi, oltre che ottimi e economici. Nella scorsa haul che vi lascio qui, vi avevo fatto vedere una blusa di Zara che mi andava un po' grandina e che avevo detto che era intenzionata a cambiarla perché non sapevo come indossarla, come portarla, perché appunto mi scendeva un po' le spalle, faceva vedere un po' troppo il seno quando mi piegavo, cioè non che io abbia chissà cosa, però insomma. Ma comunque si chiamano vestiti, devono vestire, quindi è giusto che facciano il loro compito. E quindi non ero convinta. Ho visto che era passato un mese che non c'era stato verso di metterla e allora ho detto ok, cambiamo. E sono andata a cambiarlo nella Zara vicino a casa mia, quindi zona Portello, dove c'è lì per... fa la spesa, ecco. E ho trovato questo camicione vestito che mi piace da impazzire. Io non pensavo che una cosa così mi sarebbe mai piaciuta, perché è un po' strana, però è carina, quindi ho detto ok, prendiamola. Ed era pure nel reparto saldi, costava 40 euro, ma sinceramente una cosa così 40 euro. E l'ho pagata 25, che rientrava perfettamente nel prezzo di quella brusola che ho dato via. e ho preso questa cosa qua che sto cercando di allacciare perché sennò non si capisce niente da aperta. Che poi io il blu proprio ciao, ma questa qua mi piaceva troppo. Ed è questa mega camiciona qua, ok, che è trasparentissima, quindi si mette solo con un top sotto un pantaloncino. e poi continua fino a giù, fino in basso, come un vestito che poi si apre leggermente con questo bollano, ecco. E mi piace deve impazzire. È strano, devo dire, è un capo strano per me. Però appena l'ho visto l'ho provato subito. Ho detto ok, mi piace da morire, è molto fresca, prendiamolo. E l'ho presa e l'ho cambiata. Quindi sono stracontenta ed è in saldo, quindi se vi piace andate a vederla negli Zara e soprattutto se siete più alte di me a voi sarà super bellissima perché farà un effetto ancora più bello. Ma ora veniamo agli acquisti di mia sorella. Allora, mia sorella doveva cambiare praticamente uno dei regali che avevamo preso e all'ultimo, cioè proprio alla fine della scadenza si è decisa di cambiarli. Anche lei da Zara, gli avevamo preso tutto da Zara. Quindi una mattina siamo andate, abbiamo cambiato un po' di cose però oltre a cambiare si è presa altre cose perché mia sorella è una che non fa mai shopping, non è un'amante dello shopping la seconda, quella che avete visto nel video dei nostri regali di Natale. Vi rimando anche a quel video, linkando qua. Non è un'amante dello shopping, non ama stare in giro per i negozi, vedere i vestiti, eccetera, eccetera. quindi lei è partita tipo non mi piace Zara perché mi avete preso il regalo da Zara e qua non troverò mai niente, insomma praticamente da che odiavo a Zara che ci siamo ritrovate tipo con 20 appendini in mano pieni di vestiti. Alla fine ovviamente abbiamo fatto una cernica perché sennò aiuto e vi faccio vedere appunto cosa ha preso. Mi faccio un po' più di qua così vi faccio vedere le cose. Non ve le posso far vedere addosso perché su di me fanno ridere e mia sorella era uscita quindi non mi può fare da modella però comunque immaginate un pochino come può stare su una corporatura normale, decente, in forma e insomma con un'altezza che va oltre all'1,45 e niente ecco. L'ho fatto appunto per comprendere un po' tutti perché sennò parlo sempre di moda PT e poi la gente normale mi dice ma questa mi lascia sempre indietro. No, penso anche a voi. Allora, ha preso questo pantaloncino qua che è meraviglioso e se mai lo faranno nel reparto bambini sarà mio. Meraviglioso che fa molto anni 90 molto anni 80 super mega la vita altissima le sta benissimo perché non sono quelli inguinali e che lasciano fuori anche la mezza chiappa dietro no? Non mi ricordo quanto li ha pagati forse questi qua erano uno dei due capi che ha fatto rientrare nel prezzo del regalo quindi non vi so proprio dire anche perché mia sorella non è come me toglie subito le etichette dal momento che arriva a casa e ha provato tutto quindi va bene e loro fanno parte della collezione Trafalook di Zara eccoli qua il retro è questo e sono meravigliosi ha fatto rientrare appunto nel prezzo del regalo che erano tipo all'incirca 40 euro sì mia mamma mi ha spiegato un pochino ha fatto rientrare i pantaloncini che avete visto e ha fatto rientrare questo jeans qua questo jeans qua appunto se siete petit lo trovate perché è nel reparto bambini c'è anche nella shade chiara e questo l'ha pagato cioè l'avrebbe dovuto pagare 14,95 e sono questi jeans qua di Dalt stretch sono molto elasticizzati cioè sono tipo leggings e poi hanno gli strappi sulle ginocchia e finiscono così con quelli lievemente frangettati che a me fanno morire il problema mio è che sono tutti blu 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 e non neri perché se no l'avrei presa anch'io l'ha preso la taglia 12 11-12 anni 152 cm quindi se siete anche più alte superate 1,50 se superate 1,55 questi fanno per voi mia sorella ha sporcato un pantaloncino ha preso questo pantaloncino qui che è molto particolare perché ha queste linguettine qui tipo camicia e questi due volant che lo fanno sembrare una gonna questo è uno dei pantaloncini che sono costati di più perché mi sa che è costato sui 25 sui 29 ed è bellissimo anche questa vita alta dietro c'è un comodissimo elastico e poi è così ha anche le tasche quindi per essere un pantaloncino diciamo classico e ben strutturato e lei ha preso vi dico subito la S quindi una normalissima S mi sa che se c'era avrebbe preso anche la XS perché che ci piace di più perché anche io se devo prendere delle cose da donna solo in quella collezione ha preso questa magliettina qua un po' trasparentina però vabbè con il bordino senape se no c'era anche bianca con il bordino tipo orcovaleno credo e ha preso la M è troppo carina mia sorella è molto basic il contrario mio che c'è con cose un po' più particolari poi dato che a casa mia ma anche a voi è piaciuto molto il mio pantaloncino e il mio pantalone grigio quello tipo senza cerniere niente solo con l'elastico che scende tipo abbastanza scampanato molto comodo non so se avete presente nel caso se trovo una foto ve la metto qua mia sorella voleva un pantalone simile e quindi appena ha visto questo ho detto oh mio dio lo devo provare lo devo provare e alla fine l'ha preso perché se n'è innamorata parlo di questo pantalone che ha preso una S e non c'era la XS parte proprio dalla S collezione Zara Trafalook e costato 17,95 e parliamo di questo semplicissimo pantalone con questo elastico che poi continua tutto così si apre un pochino verso il fondo ed è semplice e basic quindi quando non ci voglio di vestirti non vuoi stare un po' non elegante però vuoi vestirti bene quello proprio perfetto tanto non so come sta diventando la luce scusatemi un pantaloncino che ha preso mia sorella si è dato i pantaloncini ve lo dico che ha preso la taglia S ma c'era anche la XS se vi serve a 19,95 è questo pantaloncino qua anche questo io l'adoro adesso ci ho fatto un piocco un po' così però vabbè è troppo bello c'erano anche altre fantasie tipo il gessato quel tipo nero blu con le righe sottili bianche c'era in tartan grigio tartan tipo scozzese grigio e poi c'era questo ovviamente mia sorella ha presato all'estate e si è presa questo qua che bellissimo anche questo ha le tasche quindi eleganza e comodità poi c'è il cinturino volendo si può mettere anche senza cinturino perché non è di quelli cuciti di quelli che possono essere tranquillamente sfilati questo era un altro acquisto di mia sorella e poi come ultima cosa che vi ho fatto vedere nelle Instagram stories ma ci tengo a far vedere anche bene in video qui è questa borsa qua questa borsa qua è stato un cambio di un'altra cosa che ho comprato sì noi viviamo di cambi praticamente è questa borsa che ho preso da Bershka ve la faccio vedere anche in video perché se c'è quei saldi magari non tutti hanno visto di Instagram stories se non lo fate seguitemi e magari appunto la ritrovate magari la pagate anche meno di quello che avrei dovuto pagarla io perché costa 15,99 ed è bellissima è molto piccola cioè fate caso questa è la mia mano la prende tutta cioè tutta la grandezza della mia mano quindi è molto piccola però è molto capiente ecco qua c'è la carta come ho fatto vedere negli Instagram stories caduto vabbè come vi ho fatto vedere negli Instagram stories non è molto larga ma è molto profonda quindi magari anche se non sembra magari contiene forse contiene tante cose ecco io non l'ho ancora usata è comunque regolabile e appunto se non l'avete capito la trovate da Bershka e un ultimo acquisto che vi devo far vedere che ho preso in un negozio dei cinesi non cinesi non ho capito comunque prima era della linea CVG questo negozio adesso è di un'altra catena ancora comunque per chi è di Milano lo trovate a Baranzate e si chiama Lask e adesso lo faccio vedere così lo trovate come dice il sacchetto lo trovate sia su Instagram che su Facebook quindi lo trovate a Baranzate questo è il sito wulaskmoda.it e vi devo dire che stranamente ho trovato un costume che mi va ma soprattutto che non mi fa il difetto dietro dato che è un costume intero quello che vi sto per mostrare non mi fa il difetto dietro perché io ho la schiena che rientra molto diciamo che si chiama lordosi nel campo ortopedico e praticamente io ho la schiena che fa così quindi quando metto i pantaloncini piuttosto che i costumi interi mi rimane diretto ma non mi va ad aderire la schiena questo costume qua è meraviglioso perché mi va quindi sono super contenta e allora costava 12 e io l'ho pagato 6 5 e 99 e il costume in questione è questo qui allora innanzitutto ha non ha lo scollo ha l'accollamento diciamo perché si lega così ed è una cosa che io adoro poi coppe e poi eccolo qua intero sgambatissimo ma la cosa che mi piace da morire è che qua ha i lati su entrambi i lati non so se si vede ha tutta questa apertura è fatta con i lacci tipo bustino corsetto che mi piace da impazzire e questa è una S però appunto perché ho detto stranamente è una S allora è italiano una 42 mentre una europea è una 36 quindi ecco per dirvi un po' come veste e per stare a me vuol dire che vuol dire che è molto piccola molto fazulla come taglia però ecco lo adoro ce n'era anche un altro che mi piaceva tanto però credo che tornerò in un secondo momento a rivederlo perché non è che mi convinceva molto però comunque le cose sono già tutte in saldo e hanno dei prezzi veramente stupidi quindi se siete di Milano o dintorni andate a vederlo perché è un negozio bellissimo enorme e pieno di roba e nell'inizio del web il video è finito qui io spero che questa haul mia non mia vi sia piaciuta nell'info box come sempre trovate i link di tutti i capi ovviamente quelli che riesco a reperire in giro per appunto spulciare i prodotti vederli meglio vedere se sono in sal eccetera 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 trovate anche i link dei miei social network su cui vi aspetto per avere più aggiornamenti della mia vita oltre youtube perché magari su youtube dovete attendere un video che faccio uscire ogni venerdì alle 15 imprevisti permettendo e appunto se non volete aspettare venerdì vi aspetto tutti i giorni della mia vita a spulciare cosa combino ecco e noi ci vediamo al prossimo video un bacione ciao